Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 25 settembre di Globus Television. Mercoledì, la pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Nessuna precipitazione degna di nota solo molto localizzate sui settori più a nord temperature massime fino a 31 gradi, valori notturni stazionari. Mari, Martirreno da mosso a poco mosso, Marionio mosso, stretto di Sicilia mosso.